Ah, ecco qua. Vediamo un po' cosa c'è su TikTok, come ogni settimana. Vediamo un po' se c'è un po' di content, un po' di reaction, un po' di robe da fare per YouTube. Vediamo un po'. Perché c'è una canzone di anni fa che sta spopolando TikTok? Sta canzone è vecchissima. Perché c'è una canzone di Jumpy Tech? Vabbè, può succedere, sai, nostalgia, pubblichi edit. Ok. Ma è una casualità che me ne sono uscite due con lo stesso audio? Vabbè. Jumpy Tech, Jumpy Tech, Jumpy Tech, ai limiti dell'evoluto. Jumpy Tech, ai limiti dell'evoluto. Jumpy Tech. Ma che? Anche Jumpy Tech ha invaso TikTok? Scorro, vedo se c'è ancora Jumpy Tech. Jumpy Tech, ai limiti dell'evoluto. Quando chiede aiuto, tutti qui con te, chissà perché. Vieni sopra il tubo pure te. Ce la tagliamo insieme, sai com'è. Ah, shit. Here we go again. Just a jumpy, oh, 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 just a jumpy. Grazie a tutti